E a Palazzo Palmieri a Trani che la Coldiretti Bari ha voluto incontrare gli iscritti per tracciare un bilancio dell'attività svolta nel corso del 2016 e per fare il punto sugli obiettivi per cui lottare nel 2017, dal taglio dell'Irap e dell'Imu Agricola, passando per l'obbligo di indicare l'origine in etichetta sul latte UHT, fino al Via Libera, il testo unico sul vino. La Coldiretti racconta l'anno 2016 di battaglie che continueranno fino ad ottenere nel 2017 l'eliminazione dell'IRPEF agricola e l'aumento ai pensionati coltivatori nonché la decontribuzione per gli agricoltori under 40. Stiamo intensificando sempre di più le nostre incontri territoriali per cercare di essere vicini alla base associativa e quelli che sono i problemi che si vengono a creare in un territorio importante come quello della provincia di Bari, un territorio che ha tantissime agricolture all'interno della propria economia agricola, tantissime situazioni particolari che dobbiamo cercare di risolvere e dobbiamo cercare di portare avanti, ma anche tantissime economie di cui parlava lei, tantissime economie e tantissime eccellenze che vanno assolutamente difese, tutelate e vanno create le condizioni per cui si crei sempre un'agricoltura migliore. Da questo punto di vista la Col di Retti in quest'anno ha portato grandi vittorie all'interno delle finanziarie e all'interno del collegato agricolo che è uscito a agosto del 2016. Importante situazioni che devono essere eseguite anche nel 2017, per questo stiamo chiedendo un cambiamento ma anche una continuità in quello che è l'assetto politico del Paese e quindi stiamo cercando anche di trasferire quello che è le conoscenze e l'importanza di quella situazione che si sta creando anche politicamente in questi giorni del referendum. Quindi stiamo toccando un po' tutti gli argomenti che sono attuali sull'agricoltura e sul mondo del Paese perché la Col di Retti è sia una forza amica dell'agricoltura ma anche una forza sociale e quindi una forza amica del Paese. Con i coltivatori della provincia Bat riuniti a Trani la riunione è stata densa di commenti lamentele, nuove istanze si sono fatti sentire dai dirigenti col diretti su tanti temi tra cui ritorna il problema della nuova Andrea Trani che con la mancata realizzazione del ponte per l'inversione di marcia e le complanari già realizzate ma troppo strette per il passaggio dei mezzi pesanti rappresenta un grave disagio anche per gli agricoltori. Abbiamo presentato diverse istanze, abbiamo fatto diversi comunicati stampa in merito alla situazione e speriamo che vengano accolti al più presto.